che bella giornata registriamo il piove siamo è tutto intutato c'è un motivo se è tutto intutato lui perché secondo voi è l'ora di farlo vedere facciamo un bel corso di guida non andremo solo con questo stiamo per andare a prendere un altro mezzo ancora più veloce grazie simo aspettami vabbè io salgo aspetta ce la faccio opla simo 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 è più instabile di una bicicletta smettila e sta iniziando a piovere chi l'avrebbe mai detto vero 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 che belli siamo hai girato la chiave no è bravo are you ready ready no meno rossi c'è rossi c'è rossi c'è salta rossi c'è no 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 la chiave ciao ciao non si alza io si alzo ha 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 Niente da fare! Non ci presteranno mai più uno, scusa! Ma l'ho conosco! Acqua! E adesso incredibilmente sembreremo dei Minions! Io? Lo scooter invece mi mette... A posto! Mi mette di una sicurezza sto scooter che fa spavento! Scusa! Scusa! Scusa, sono indietro io! No, 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 uff! Ah! Ah! Madonna! No, frena sto qua, frena! Va già bene che c'è il Brembo ora! Matteo, lo supero! Solo perché arrivava una macchina, sennò saltavo! Sì, 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 sì! Sì, sì! La sicurezza prima di tutto! Vigina bagassa! Matteo, seguimi, seguimi! Aspetta, perché adesso stiamo andando al cimitero! Ma stiamo passando dall'altra parte! Sai cosa vuol dire? Enduro! Aspetta! Frena, frena, frena! Frena, frena! Frena, frena! Aspetta! Bocchia, 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 bocchia! Matteo! No, la pazzangherà! Madonna! 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 C'è la polizia municipale dalla rotonda! Oh, c'è la polizia da? Ah, c'è la polizia da? Ah, c'è la polizia da? Se mi fermano ti giuro che dico la sicurezza prima di tutto! Ciao! Ciao! Mi sembra tanto! Mi sembra che sia? No, ma te ne vedi, mi sembra che sia il problema che sbiscono sempre! Ciao! Seguimi, seguimi, ciao! Two hours later Eccoli là, caramba! Porco di... Pazzo, pazzo! Ricordate la sicurezza! Eh, siccome c***o faccio impennare! Impenna! Lo impenno, eh! Guarda il bambino che vuole che impenna! Allora, signori e signori auto! Porco di... Sei pazzo! Ho capito che vuoi tirare giù specchietti, ma ben lì! Ci sono i buchi! Allora, quest'anno all'Equo, io e Matteo ci saremo! Saremo presenti felpati New Edition Bikers! Venerdì 9 novembre e poi lasceremo le info su Instagram! Domenica 11 novembre e poi lasceremo le info su Instagram! Quindi... Seguiteci su Instagram! Bene, perché Dio è un po' cattivo nei nostri confronti Casualmente ci siamo fermati per cambiare la batteria Meno male! Perché casualmente ho staccato il gommino di sto microfono di merdo! Di conseguenza mi tocca ridire tutto TUTTO! 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 Quindi mi tocca ridirvi del ninja Cercherò di interpretare la mia stessa persona poco fa DIO MEXO! Non so niente del ninja! Niente! 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 E quando dico non so niente Intendo proprio che non so niente Vabbè, una piccolina cosa non so Però non è una cosa piccolina! Non so altro! L'unica cosa che so è che abbiamo fatto tutti i fogli Abbiamo inviato la richiesta Bla 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 E deve arrivare tutto! Ciao! La moto è dal meccanico Ancora come era il giorno dell'incidente Ovvero esattamente due mesi fa Non è stata sfiorata Ma non per colpa del mio meccanico Perché è lento, no? Che le assicurazioni fanno quello che vogliono Quindi la moto è lì Non la posso toccare Ovviamente non la posso guidare Manco si accende Occio! Bravo! Becco di me- Non volano specchietti Non volano specchietti Quasi quasi torno indietro eh! Non riesco! Non riesco! Non riesco! Sorpasso 30 all'ora Comunque riguarda Ninja Per chi si fosse perso il video in cui spiego l'incidente Vi lascio la i qua in alto Simo dove stai andando? Simo! Simo! Simo la ghiaia! Bisogna stare a destra! Oh Simo! Gli autovelox! Tanto le multe non le paghiamo noi! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Non va Oh c'è il buco C'è qualcuno tra che non cosa Bucco Cosa è successo a questa povera macchina Scappiamo Via via a fuoco a fuoco Giuro che ci salgo Marte guardami Oddio no Oddio no Fatemi bene Ho la proposta da un milione di euro Se questo video però ci deve arrivare ragazzi Arriva a 1500 mi piace Facciamo un video di 5 minuti in cui andiamo in giro Non so in che mezzo a urlare mucca sulla gente Sei pronto Marte? Ragazzi siete pronti? Oh no 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 Oddio che salito ne è? Ayayayay Iayay Scusami! Scusami scooter! Madonna! Non ce lo lasciano più lo scooter! Porco diaz! Qua ci vuole una canzoncina adatta! Ok 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 ragazzi! No tranquilli! Dov'è il problema? I pezzi ci sono tutti! Lo scooter dritto! Immaginatelo così! Simo! Simo poi non esci! Aspetta! Ora bisogna scendere però! Devono andare i freni e non lo scooter! No! Ho scelto la strada peggiore! Oh! Oh! Ok! 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 Io direi che è l'ora di rallentare! Dove sei? Non lo so mi hai traumatizzato! Riposo caro! Simo! Cosa stai facendo? Ma puoi passare di là! Male! Io volevo fare una cosa! Una persona che si chiama Lucio! Cerchiamo di non lasciare mai spoiler! Noi alla fine del video! Si praticamente si esatto! Cerchiamo di non lasciare spoiler! Ragazzi! Ricordatevi! Un video di 5 minuti! Dove urliamo solo ed esclusivamente mucca sulla gente! Alla gente! Tutto questo tutte le cose... Ciao! 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 Grazie a tutti.